Ciao a tutti ragazzi, qui c'è ancora Noles, sono qui come sempre con il buon Dritok. Buongiorno. Con una pala in mano. Perché hai una pala in mano, buon Dritok? Perché facciamo uno spiazzo per fare il fieno. Guarda quanto è intelligente, ha studiato. Uh, tratto, abbiamo le zucche. Piantiamo anche... no, beh, non saremo una mazza. Se si possa mangiare? No. Però abbiamo la canna da zucchero, che quella potrebbe servire a cose dopo. Quindi, ve la metterai qua. Sì. Molto bene. La lana rossa la mettiamo al suo posto. Poi metterla giù anche te quando... uh, c'è una paletta già qua. Eh, metterai giù tutto, sì, 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 decisamente. Questa via. Ok, ok. Dove raccogliamo la terra? Bene. Io sto raccogliendo qua. Odì! Vedi? Vedi che sono un fail? No, ci conviene togliere da giù. Da giù? Tipo... Cioè, togliamo un altro strato di terra. Ok. Facciamo anche uno spiazzo. Ah, capisco cosa vuoi fare. Ok, torno su. Lo facciamo qua sotto direttamente almeno. Sì, di volendo. Qua perché ero... Ok, capisco. Vabbè, mettiamo più sotto. Ok. Ah, no. Però qua dobbiamo mettere la terra. Sebbiamo continuare. No, quasi quasi ci conviene farlo partire da qua. Anzi, no, no. Vuoi farlo di sotto? Così quasi? Sì, dai, 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 sotto. Io lo. Cioè, da qua prendiamo la terra per farlo. Qua facciamo una mini scaletta. Sei sempre capace di far diventare delle sfere perfette delle schifezze. Sì, i quadrati. Esatto. Bro. Cazzo, non ho le torce. Io ne ho una. C'è anche una l'ha lanciata. Eh, è qua. Eh, quella che ho tolto da un... Ah, l'ho... Direi sto muro qua e... Oppure io lo. Io lo. Sì, dai, facciamolo qua in basso, così. Perché noi può. Va bene? Mi troverà sta un po' di luce. Sì, poi adesso andiamo a farlo. Cioè, ce l'abbiamo il carbonello. Poi facciamo un muretto sopra, così siamo sicuri di non chiedere da lì sopra qua giù. Esatto. Eh, ma anche da parte. Poi faremo una staccionata. Faremo tante cose. Ho sentito che si è rotto qualcosa. Ma c'è del carbone lì, aspetta un momento. Ah, prendi il carbone. C'era un buchino così con del carbone, basta? Figo. Prendo. Aspetta. C'è più nulla? Ah, ok. Continua. Cazzo! Man, 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 man. Cosa? I silverfish. Quali ratti? Oh, mezzo cuore. Sono là dentro. Oddio, attento. Tutti e due? Sono morto. Ok. Madonna, qua hanno messo dei blocchi dove escono quelli. Madonna. Porca tra... Oddio, sto per cadermi a nulla. Basta così largo? Sì. Qua in mezzo ci metto l'acqua. Così? Ovviamente ce l'ho estazionato, se no poi rischiano di cadere. Sì, poi faremo tutto. Ops. E da dove si sale? Da qua. Faccio così per ora, poi... Vedremo. Da qua si può metterla più al centro, no? Sì, mettiamola in mezzo e mezzo. Ah, io l'ho messo là perché pensavo... Sì, sì. Metti il buco nel punto giusto. Ok, allora, il secchiello è qua. Ok, ora devo fare una cosa rischiosa. Io ho mezzo cuore. Dov'è il centro? Tu fai contro che l'acqua prende tre blocchi. Quindi uno, due, tre. Tre blocchi? Uno, due, tre. Eh, di qua sono quattro. Uno, due, tre. Se facessimo un blocco più in qua... No, no, ma non prende tre. Mi sa che prendi... Non mi ricordo più niente. Ciao. Oh, bene. Così. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Arrivo, arrivo, arrivo. No! Ho tappato di lì, che cretino. Ok, ok, ok. L'altra la mettiamo di qua. Quindi io sono sicuro. Ah, vuoi metterne più di uno? Tanto. Va bene. Quindi io sono sicuro. Sì, arrivo. Ora di lì... Vabbè che realmente... La metto così. La faccio una stazionata. Anche se ne ho fatto, va bene. Facciamo così. Poi qua dovrei andare giù a tappare, quindi. Mi sta dicendo. Mamma mia, mamma mia, che paura. Ok, ok, ok. Dovrei essere vivo. Dovrei essere vivo. Ok, sembro vivo. Molto bene. Ci serve una zappa. Quella dovremmo avercela, no? Oh, sì. Ok, io ho la zappa. Tu fai un paio di torce. Aspetta, ti lascio il carbone. Dove sei? Là. Al volo! Ok. Io devo prendere legno. Cioè, abbiamo un po' nella fornaccia. E anche tanto il carbone è l'ora che c'è. Tiro giù e poi li rimpianto. Ok. Mi rimpianto. Oh, oh. No, perché le ho già messo in una cassa qua? Per metterci la lana. E mi ricordo solo ora, per fare. Tu l'avevi della lana rossa? Sì. Mettila qui. Guarda, guarda qua. Ok, ok, ok. Vado a zappare. Ciao. Ciao, contadino. Ok. Che forte questo contadino. Ah, meglio. Ah, prima qua devo fare la mia solita struttura per illuminare tutto. Così alta o di più l'avevo fatta? Sì, così alta va bene. Così non cade neanche nell'acqua mentre va in giro. Perfetto. Mi butti un paio di torce? Arriva. Anzi, non ho scherzato, torno su. Hai finita la zappa? Sì. Allora, legna qua. Tac. Facciamone un paio. E poi facciamo così. E così. Abbiamo una bella zappa. Come era? Cosa? Vuoi fare uno stick? Un legno sopra l'altro. Non grezzo quello normale. Ah, sopra l'altro. Ecco perché non andavo. Noob. Noob. Allora, di qui facciamo un posto dove si arriva perché se no si schiaccia giù tutto. Capito. Ok. Metti un paio di torcine su questi blocchi qua e abbiamo finito. Ah, ci manca una cosa leggermente necessaria. Scusate, qual è? Qual è? Non so. E il grano. Giusto. Quindi facciamo la nostra bella farina d'osso. La gente che passa in moto sotto casa mia l'ho... Ok. E facciamo così. Guarda l'erba come si muove. E non è uscita neanche insieme. Facciamolo qua. Vallo giù nel campo, no? Ah, è già pieno di vero. Eh, ho già fatto... C'è uno. No, è albero. Bene, sta uscendo neanche uno. E non vorrei che ci sia un motivo a questa cosa. Uno, 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 uno. Volendo uno è sufficiente. Però sai cosa faccio, quasi, questo. No, è un altro. No, no, uno ce l'ho. Anche un fiorellino è uscito. Un altro! Ne ho visti altri? Io ne ho uno. Perfetto. A questo punto finiamo la farina d'osso. Buono. Dovremmo illuminare anche qua, ora che ci penso. Aspetta. No! Fail. Va che figata! Perfetto. Sì, dai. Mitterai, tipo... 6 di farina. Sì, dai. Tanto poi cresci piano piano. Dopo, quando cresci, dopo siamo a posto. Esatto. Che altro per le angure, che quelle poi... Dovrebbero spawnare in fretta, tranne adesso che... Dopo le mettiamo giù alcune, volendo. Invece che per le pinze. Eh, infatti, sì, sì. Cioè, ampliamo un campo. Sì. E ricordo bello che stai diventando tutto... Madonna. Ok, io porto a seminare dall'angolo perché sono ordinato. Vale, abbiamo un campo di grano! Ragazzi, questo video l'abbiamo registrato subito dietro a quell'altro, quindi... Non abbiamo ancora sentito i commenti per la casetta, quindi... Aspetteremo a farlo. Lassù? O qui? Bella domanda. Poi potremmo fare anche un megatunnel che va da qua là. Si possono fare un sacco di cose, ragazzi. Tanto il tempo... Penso che ne abbiamo... Cioè, spero che ne abbiamo ancora, non voglio morire giovane. Sei sicuro? Sì. Potremmo iniziare a fare un po' di staccionato, vendo. Perché ho un po' di... Legno. Io sto sistemando... La glowstone. Abbiamo un po' tanto. Anche tante alberelle. Le bastoncine, anche questo, anche questo. Ok, direi di far diventare... Tutta la glowstone. Proprio quella giusta. Per far piacere un albero basta un blocco. Basta un blocco? Non ho capito. Non ti sento più. Non ti sentivo più. Non ho capito. Comunque, per fare un albero. Basta un blocco di terra e luce. Sì. Teorie. Quindi se tipo fai... Un blocco di terra col contorno di... Pietra, dovrebbe crescere. Penso proprio di sì. Perché? Quindi volendo possiamo fare un posto dove facciamo solo albero. Così è più comodo. Invece che prendere gli alberi qua in... Vero, anche quello. Però, beh... Cioè, in teoria, penso che... Ci servirà moltissimo legno. Cioè, tranne all'inizio, poi per la casa. Anche se, sinceramente, non voglio fare una cosa troppo grande, ragazzi. A meno che non la facciamo solo. Là c'è un sacco di spazio. Sennò ci vuole un sacco solo per fare la terra da mettere sotto. Capito? Tecnicamente non c'è bene anche la terra per farla sotto. Solo. Guarda qua cosa ti ho messo. Inca la potenza. Guarda, ti metto anche qua. Vado a mettere anche giù. Che non ci avevo pensato. Facciamo così. Facciamo così. Ho messo giusto? Sì, oddio. Spero che non rechi danno. Ho un ritardo. La glowstone. Ne abbiamo veramente tante. Ne abbiamo due stack da 64, più... 49, 51. Devo contare. Perfetto. Ok, ok. Hai impiantato il seminio? Cosa? Abbiamo impiantato il seminio e ho ancora no? Sì, io sì. Io ne ho ancora uno da mettere. Dammi che vado a metterlo. Se vuoi. Arrivo. Ciao. Grazie. Vado. Alcuni sono già un po' più cresciuti di altri. Molto bene, molto bene. T'ho sentito laggare di brutta cosa. È il clima. Ah, lol. Mi direi che con questo tramonto, molto affascinante, è il mio minatore molto forzuto e alberoso. Possiamo concludere questo episodio? Con un cuore. What? Ah, con un cuore. Io non ho mezzo, fa un po' te. Con il tramonto siamo a concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento come al solito. Ma perché continuo a dirlo? Cioè, ormai... Cioè... Bene. Ci vediamo al prossimo video dove andremo su quegli asteroidi figosi e soprattutto quello là in alto perché ci ispira a sesso. Vero? Sesso. Esatto. E farà uno striptease là sopra lui. Vero? Mhm. Ti c'è anche... E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao. Sono Farfetch. 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 Farfetch.